Cada giorno da mandarsi un pezzo, da toccarsi un bicchiere e commerci sono luoghi essenziali al mantenimento di una vita in un paese. E' ma scontra a due commercianti che sono qui in Yolo a parte d'inverno da permetta ai paesani di Yolinka di ritrovarsi tra paesani e passarsi una stonda. Se di Stati pareti i commerci di Yolinka apprendono da accoglieri turisti o nelle stesse affari d'inverno, ma un ristorante teni bono da poi a neani, a pizzeria Manu all'intrataiga la guccia, di un zolologo a parte di Yolinka di Yazimana e che tutto l'anno. Manu, saluto! Saluto e buona! E buona? E buona? Allora, come ti ha già appena, seti apparti tutulano, 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 tutasimano, c'è un po' un engagement quand même pour le village? Voilà, un engagement pour essayer de faire vivre un po' le village e de se le mantenere. C'è important d'avoir dei commerci? Exactement, s'il n'y a plus de commerci, c'è più di vita. E voi arrivate a lavorare, ti ho, mondo? Apeno, c'è, c'è sì, c'è sì, ça devient de più in più difficile. De 1 500, on è passato a 600 o 500 e qualche abitanti. C'è per questo che diventa un po' più complexe. C'è complexe l'hiver, l'etè, c'è un po' di mondo? C'è un po' di 15 euro a 15 euro, in gros, in gros. Après, on travaille beaucoup mieux. On a quand même 4-5 mois di buon lavoro. C'è sûr que l'hiver, maintenant, ça devient de più en più dur. De maintenir la vie, ça devient de più en più dur. Heureusement qu'on a l'école, la pharmacie, la poste, le magasin. Ça nous maintient encore un peu de vie. Nous, on va essayer de tenir au maximum. A détermination di Emmanuel Fontan è apprezzata dai baisani. Ah, d'accord, d'accord. A Brisenza, d'un ristorante, partecipè di a un mantenimento d'un alea social in paesi parli abituati, as a Brisenza, faci pro. C'est un peu de vie. C'est un peu de vie. On a l'air, on a l'air, on a l'air. Non, aujourd'hui, on a l'air. Donc, on a l'air. On a l'air. Et puis, on a l'air. On a l'air. Tout le monde a l'air, c'est bonissime. C'est un peu de vie. Juntes à 20 semaines, d'autres lieux s'accendent, d'accoglamentaux, comme ici, a casa Newlink in giro a un bittiero o a un piatto ci si ritrovano i quelli che stanno all'anno in paese e quelli che ci passano il sabato e la domenica per lavorare in una città per i clienti ho bisogno di cedere i comerci così da poi adunisci ci rendiamo tutti tutti i giorni di Newlink che lavorano per certi importi in aria, in bastia e ora ci permette solo qui a domenica ci rendiamo e abbiamo ancora pensato i giorni si ritrovano ma si si ritrovano a casa Newlink permette a Newlink di fare la fra generazioni e su mischio è giusto appunto a bulintare i padroni il stabilimento tutti i giorni, tutti i giorni e come spesso Il suo passo rhodiano a si ratta si gompia a occhi spurgulati come un simbolo di un niollo con si lascia manca penamore.